Sul Mediterraneo è presente un campo di alta pressione di natura africana che, oltre a garantire condizioni di stabilità, determina temperature ben al di sopra della media stagionale, una situazione che nel corso di questo fine settimana rimarrà quasi stazionaria, almeno per quanto riguarda la nostra regione. Per domani sabato 9 maggio avremo cielo generalmente poco nuvoloso ovunque con passaggi di rubi stratiformi, temperature in ulteriore aumento con valori massimi superiori a 25 gradi centigradi, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo, domenica 10 condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti in prossimità dei rilievi, temperature senza particolari variazioni, venti deboli meridionali e mare quasi calmo poco mosso. Nella prima parte della giornata di lunedì 11 maggio l'afflusso di aria calda subirà una temporanea accentuazione a causa del maggiore affondo di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, depressione che condizionerà parzialmente il tempo sulla nostra regione nella giornata di martedì, quando ci sarà occasione per qualche piovasco sparso con temperature in diminuzione. Ma già da mercoledì 13 maggio l'alta pressione riprenderà possesso del Mediterraneo ad iniziare dal settore orientale. Questa volta l'afflusso di aria calda potrebbe risultare ancora più intenso fino a portare probabilmente le temperature anche oltre i 30 gradi centigradi segnatamente nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it. Grazie a tutti.